Good morning, good morning, good morning everybody, Nika Marda right here, right now in the present time now Finalmente oggi domenica in Italia saranno intorno le 5 del pomeriggio in questa fantastica, fantastica giornata Facebook live in italiano, oggi sarà una Facebook live un po' lunghetta quindi prendete tempo, sedetevi, dopo questo pomeriggio intenso immagino il pranzo sarà stato eccezionale quindi rilassatevi per bene perché questa Facebook live sarà un po' lunghina e saranno toccare importanti importanti punti e il topic di oggi è proprio parlare del flusso che è dato dall'energia e dal ritmo stiamo parlando di fisica, quantistica, energia, spiritualità, tutte queste cose che nessuno mai vi dirà che sono, fanno parte, ho sperimentato su me stesso, sono parte della nostra vita ogni giorno e sono fondamentali per capire dove siamo, dove stiamo andando e soprattutto come raggiungere i nostri obiettivi è una parte della crescita personale che è parecchio parecchio importante capire dove si è e capire dove si sta andando e questi punti, capire il flusso, in che tipo di flusso energetico ti trovi in questo momento è fondamentale ecco perché volevo parlare, ho fatto diverse Facebook live, ne sto facendo una in italiano lunghissima proprio per spiegarvi questo, e il mio obiettivo è quello di darvi queste informazioni tutte a gratis, come si dice, perché il mio obiettivo è proprio quello che se anche uno di voi una piccola parte di tutte le persone che vedranno questa Facebook live inizierà un percorso di crescita personale, per me il mio obiettivo sarà raggiunto perché crescita personale non significa solo iniziare a studiare, iniziare a fare ma iniziare un percorso che ti porterà ad essere un'altra persona in Italia tante persone hanno bisogno di crescita personale in maniera enorme, perché siamo bombardati da credenze, media, paradigmi che condizionano totalmente tutto il nostro pensare e il nostro stile di vita quindi iniziare un percorso di crescita personale è qualcosa di impressionante e ovviamente in Italia è doveroso farlo iniziamo anche una Instagram live per rimanere in tema social e partiamo subito con il capire da cosa è dato il flusso energia vitale è andato dall'energia e dal ritmo ora, cosa intendo per energia e cosa intendo ritmo? partiamo dal ritmo, che è molto molto più semplice il ritmo è qualsiasi cosa a cadenza regolare parliamo di musica ogni nota ha una cadenza in un specifico tempo quindi ogni nota è qualcosa che accade in una sezione di tempo precisa il ritmo, e ci sono diversi ritmi nel ballo per esempio è un gesto, un passo che fai ogni cadenza di ritmo è qualcosa che fai, spiegato in termini generali, a cadenza di tempo in un tempo preciso io vi ripeto che il tempo è un'illusione, è qualcosa che diamo noi quindi possiamo decidere noi che tipo di tempo queste cose faremo il ritmo nella vita è molto molto importante perché pochi conoscono che il nostro stile di vita ha un ritmo noi ci alziamo la mattina, abbiamo un ritmo poi al lavoro abbiamo un altro ritmo quando torniamo a casa abbiamo un altro ritmo quindi capire che tipo di ritmo il nostro stile di vita è è fondamentale perché poi viene accoppiato al tipo di energia che abbiamo se è un tipo di energia alto o basso l'energia è qualcosa, noi siamo a livello fisica quantistica cioè se è una molecola al microscopio prende un microscopio e si vede attraverso il suo microscopio quindi è qualcosa di quantum, molto molto piccolo quindi tutto intorno a noi è energia noi siamo fatti di energia, le cose sono fatte di energia ed è l'energia qualcosa sempre in movimento in moto, in mozione quindi energia è collegata anche all'emozione quindi come vedere che tipo di energia abbiamo in base alle nostre emozioni se noi abbiamo un'emozione collegata a un'energia positiva abbiamo un'altra energia se siamo arrabbiati, incazzati, infuriati abbiamo un'energia molto bassa perché è connessa a un'emozione molto bassa per esempio, ed è facile contraddistribili perché noi intorno a noi abbiamo questa energia perché noi siamo fatti di energia e più è alta, più attraiamo cose alte e positive a noi più è bassa, più attraiamo basse e uguali energie insieme a noi accanto a noi la attraiamo per la legge della trazione quindi tutte queste leggi fisica quantistica tutte queste cose che sono parecchio tanta tanta roba le voglio spiegare in maniera molto molto semplice calamita, polo positivo e polo negativo con un'altra calamita si attraggono e si respingono in questo caso bisogna avere più e più nel caso della legge della trazione nel caso del magnetico è un po' l'opposto ma nello stesso esempio se noi avviciniamo qualcosa di ferro o la calamita, quel ferro viene proprio attratto così noi facciamo con la nostra vita con le nostre energie ecco perché è molto importante capire che tipo di energia per esempio, avevo fatto degli studi, delle ricerche la felicità ha un voltaggio di 540 mentre essere arrabbiati scende a 150 quindi questo sbalzo di energia di una frequenza fa proprio cambiare tutto ciò che iniziamo a trarre percepire a noi quindi energia più ritmo uguale flusso perché è importante capire il flusso? perché il flusso decide tutto ciò che andrà a combinare ad accadere nella nostra vita dipende in che flusso sei nella tua vita questo flusso determina tutto tutto ciò che accadrà intorno a te è qualcosa di impressionante e pochi lo conoscono quindi iniziarsi a responsabilizzare per tutte le cose che avvengono nella tua vita è già il primo passo per ammettere che puoi cambiare qualcosa io per esempio sono l'esempio ho cambiato tanto nella mia vita perché l'ho voluto e l'ho attratto quindi tornando ora nello specifico a che tipo di ritmo e che tipo di energia abbiamo ritmo possiamo avere un ritmo alto, veloce un ritmo lento, basso quindi se ho un ritmo veloce faccio tante cose in questa sezione di tempo se ho un ritmo lento faccio meno cose in questa sezione di tempo questa sezione di tempo può essere qualsiasi sezione di tempo noi decidiamo per esempio durante la giornata al mattino il mio ritmo al mattino è molto lento perché ho un risveglio molto dolce leggero, faccio meditazione tutte queste cose poi quando inizio a lavorare vado molto veloce il mio ritmo è veloce perché voglio essere molto produttivo poi a fine giornata rallento di nuovo per godermi un po' più tutto il pomeriggio il mio tempo libero le mie passioni e hobby un esempio di come avviene questo ritmo non so se vi è mai capitato di quando siete molto felici entusiasti andate a ballare il tempo passa velocemente mentre quando siete adottore ad aspettare nella waiting room che si libera il posto 5 minuti sono 2 ore 50 non passa mai il tempo perché il tempo è lo stesso perché non esiste il tempo lo indeggiamo noi e la percezione che abbiamo di questo tempo che è diversa quindi il ritmo cambia ecco è importante quindi abbiamo ritmo veloce ritmo lento a livello di energia invece abbiamo energia positiva alta energia positiva e negativa quando siamo super felici quando siamo super eccitati di qualcosa se abbiamo un'energia positiva intorno a noi siamo molto molto queste energie si muovono molto veloce all'interno del loro spazio quindi sono molto molto reattive e dinamiche quando abbiamo un'energia molto lenta non lenta bassa siamo molto tristi arrabbiati stressati infuriati tutte queste negatività quindi c'è un'altra per entrambi un medio livello quindi ritmo medio è energia media ma io non la calcolo perché non ha senso io preferisco vedere cose bianche e nero e non bianco nero e grigio perché avere un'energia media cosa significa? essere nella mediocrità essere nell'everyday essere senza emozioni quasi perché cosa qual è l'energia neutrale quando sei neutrale quando non stai facendo niente quando sei non lo so sei annoiato cosa vuol dire neutrale? quindi l'ho completamente escluso quindi abbiamo positivo e negativo solamente molto semplice queste quattro nozioni combinate insieme abbiamo il flusso il flusso è la combinazione di queste queste due questi due fattori quindi per esempio se noi abbiamo un'energia bassa e un ritmo basso siamo molto 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 depressi energia bassa ritmo basso quindi sei molto negativo e non fai e fai poco nell'arco di tempo siamo depressi annoiati depressi mentre se hai un'energia positiva hai un ritmo alto cosa vuol dire? che stai stressato quindi un altro un altro livello sei stressato stai fai molte cose ma vedi tutto negativo per esempio le persone stressate che sono in questa fascia sono tipo dei manager dei che hanno tantissime responsabilità stanno sempre over lavoro stanno sempre sempre con questa palpitazione però non sono felici non hanno un'energia positiva perché sono sempre in bassa energia cosa succede invece se abbiamo un'alta energia e un basso ritmo alta energia quindi è un'energia positiva se è aperto però fai molto poco a livello di cose a livello di ritmo sei molto basso come ritmo questa per me è il livello della meditazione perché vado un po' ad estremis meditazione è importantissima perché è quando vai così come dice bob proctor vai molto veloce andando piano quindi hai un'energia molto positiva ma un ritmo lento poi ovviamente questi sono tanti estremi l'ultimo estremo è proprio quello di avere un'energia molto molto alta e un ritmo molto molto alto questa è produttività il quarto e ultimo livello produttività è quando è l'apoteosi è quando sei davvero al top sei super felice sei super produttivo attrai tante positività e fai tante cose in un determinato spazio di tempo è molto molto importante allora qual è l'obiettivo che ti devi porre per avere un ottimo stile di vita non essere sempre al produttivo perché sempre essere sempre al produttivo può essere molto controproducente perché fai tante tante cose ma hai un ragionazione enorme fai tante cose in tanti campi devi ovviamente divergere tra il terzo e il quarto livello essere in meditazione quindi capire dove sei a identificare la strada e poi avere una super produttività questo è molto 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 importante ovviamente bisogna cercare di avere questi flussi questi due ultimi flussi perché ovviamente cose negative cadono cose momenti down succedono tutti siamo a parte siamo esseri umani è normalissimo la cosa che può davvero fare la differenza è la capacità di andare e cambiare uno di questi fattori per esempio sono una fase molto depressa quindi ho un ritmo lento e un'energia lenta e voglio cambiare voglio passare in una fase di meditazione quindi avere un ritmo lento ma una energia positiva non devo cambiare il ritmo devo cambiare energia e la possibilità come farlo è molto semplice bisogna ascoltare le altre mie facebook live è molto molto efficace è molto più efficace capire in che flusso sei e come divergere nel flusso che vuoi essere ci sono molte molte persone che sono costantemente nel flusso nel terzo flusso della meditazione sono persone molto spirituali che vivono solo nella spiritualità e non vogliono andare oltre è fantastico questo posto ma devi anche divergere con aumentare il ritmo fare molte più cose quindi entrare nella produttività ho molte persone che sono super stressate al lavoro perché fanno tante cose e hanno un'energia negativa magari tutte queste persone devono solo cambiare la positività la loro energia e quindi entrare in uno stato di super produttività oppure diminuire il ritmo e aumentare l'energia quindi entrare in uno stato di meditazione questo è il perfetto cambiamento quindi è molto 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 importante capire in che tipo di flusso sei e come ovviamente riuscire a a cambiare il proprio il proprio flusso il proprio ritmo la propria energia come farlo come cambiare il ritmo è molto semplice fare molte più cose in uno spazio di tempo e come cambiarlo bisogna sempre prima analizzarsi e poi mettersi in obiettivo per esempio ho analizzato il mio stile di vita come mi sveglio prima mattina un ritmo molto molto lento faccio molte cose con calma poi ti vergo quando inizio il lavoro e sono molto più produttivo molto più energetico ho sfrutto molto più energia perché è il momento di spingere questi due diversi ritmi come positività cerco sempre di mantenere l'alta come cambiare l'energia l'energia si cambia a livello fisiologico quindi se tu hai le spalle dritte e sorridi è impossibile che sia triste prova a farlo se tu sorridi è impossibile essere triste ti viene da ridere perché è divertente sorridere il tuo cervello quando tu sorridi non percepisce non sa se è vero o no se sai ma inizia a mandare elementi chimici che ti portano alla felicità l'endorfina entusiasmo eccetera eccetera quindi sorridi di più se vuoi aumentare l'energia o a livello fisiologico spalle dritte schiena dritta bello imponente un altro molto grande segreto anche questo oppure puoi anche iniziare a pensare in maniera totalmente diversa se pensi positivo completamente completamente aumenti la tua energia perché il tuo cervello non riesce a capire se la cosa è vera o falsa accetta tutto se tu pensi una cosa positiva l'accetta come positiva e ti manda energie e formule chimiche positive è un concetto molto complicato però ho cercato di spiegare in maniera molto semplice ho eliminato tanti tanti passaggi e la cosa importante da fare è proprio quello di iniziarsi ad analizzare analizzarsi qual è la tua energia come ti senti in base alle tue emozioni che emozioni provi ora e le segni e in base al tuo ritmo dividi la giornata in varie sezioni identifica in questo l'arco di tempo qual è il tuo ritmo quante cose fai in un determinato tempo e poi inizi a mettere insieme tutti i punti ed esce il tuo flusso che tipo di flusso hai flusso 1 depresso flusso 2 stressato flusso 3 meditazione flusso 4 4 produttività in uno di questi quattro ovviamente ci sono tante sfumature puoi essere nel mezzo puoi essere nel mentre ma gli estremi devi calcolare e poi puoi identificare il tuo punto quando identifichi il tuo punto analizzi il tuo punto devi cercare di importi un goal su un obiettivo e capire dove vuoi andare e come modificare cosa modificare il tuo ritmo o la tua energia questo è stata un questo resterà registrato quindi riascoltate prendete appunti sarà anche sul mio profilo youtube presto 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 non dimenticate subscribe iscriviti al canale ci sono tanti tanti video potentissimi e tutti a gratis come si dice se avete domande ovviamente scrivetemi in privato così vi rispondo perché è molto molto magari potete confondervi in base al vostro flusso se avete molte se è solo uno di voi inizia a studiare anche un pochino di fisica quantistica inizia a identificarsi un po' in qualche flusso o a fare qualcosa di in più per la sua crescita personale e il mio obiettivo sarà soddisfatto anche uno di voi perché ciò che sto facendo queste live da un paio di mesi e mi spinge sempre di più a condividere queste informazioni preziose che tutti voi perché soprattutto in Italia c'è bisogno di tanta tanta crescita personale tanta identificazione in una persona e portare questa persona a un altro livello I hope you guys have a wonderful wonderful rest of the day da Nick Camarda è tutto io spero avete una fantastica domenica non dimenticate di condividere questo video ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao